La liturgia di questa decima domenica del tempo ordinario ha una parola acuta, profonda, seria, non immediata nella sua comprensione. Si apre con la proclamazione del dialogo fra Dio e Adamo dopo il peccato. E' interessante che questo dialogo è la constatazione della tragedia del peccato. C'è tutto il male che è innescato nella nostra vita ed è centrato su questa realtà, su questa maledizione del serpente. Il serpente viene maledetto e viene annunziato che arriverà la stirpe di questa donna che schiaccerà la testa. Mentre lui continuerà a insidiare il carcagno. Ecco, di fronte a cosa siamo? Ci sono tante dimensioni di senso in questo testo importantissimo. Siamo di fronte al fatto che fra la stirpe della donna e il serpente c'è inimicizia. Io porrò inimicizia. Questo dono, che è il dono delle straneità al male, è il dono di essere non più amici di qualche cosa che un tempo credevamo nostro aiuto. Se vediamo la storia del peccato, è la storia in cui Eva viene ingannata per credere che una cosa che Dio gli ha detto che era male, in realtà dovrebbe essere un bene, in realtà è un vantaggio. E invece scoprire che aveva ragione Dio è il giocare fra il bene e il male con un lavoro di ambiguità. Per cui chiamare il bene male e il male bene, chiamare l'obbedienza a Dio in uno stato inaccettabile e chiamare il male, cioè la disobbedienza alla trasgressione, come una cosa vantaggiosa, un momento di crescita, una cosa buona che ci fa bene. Ecco, nitidamente il problema è che non c'è una via di mezzo. Non c'è niente da fare. C'è l'apertura del testo della Didache, che è uno dei testi più antichi della tradizione cristiana, contemporaneo al Vangelo di Matteo, che comincia così. Due sono le vie dell'uomo. Una è la via della vita, l'altra è la via della morte. E fra queste la differenza è grande. Ecco, questo è il punto. Una è la via della vita, l'altra è la via della morte. Perché ci attardiamo nel dire questo? Perché il Vangelo ci metterà di fronte a un momento in cui Gesù viene accusato di ambiguità. Viene accusato di essere uno che fa cose buone, però con un'origine torbida. viene accusato di essere posseduto, guidato da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni. Qui Gesù sarà piuttosto duro, serio. Innanzitutto dice non può Satana scacciare Satana. Satana non lavora per il bene. Può al massimo lavorare per il falso bene. Può convincerci che un male è un bene. o può nascondersi dentro il bene in una maniera tale che quel bene sia infettato e portato al male. Ma non c'è via di mezzo. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose. Se prima non avrà legato l'uomo forte, allora ne saccheggerà la casa. E qui Gesù sta dicendo che ci vuole uno più forte del male. Ci vuole qualcuno che si opponga al male come lui è. Come lui è luce che squarcia la tenebra, che distrugge la tenebra. Con il Signore Gesù non si può fare a metà, ma con il peccato, con il vizio non si può fare a metà. Finché non c'è questa inimicizia in noi, finché una dipendenza non ci è antipatica, non la combattiamo, ma finché da un peccato non desideriamo uscire, Dio non ci può liberare. Non è che ci svegliamo una mattina e abbiamo smesso con un vizio così per magia. No, Dio ci chiederà il permesso. E questo permesso noi glielo diamo, vero, autentico e non così un momento emozionale su cui poi ritorniamo un minuto dopo, perché abbiamo vera antipatia per il male. Nessuno esce da una schiavitù finché non odia lo stato di schiavitù, perché molto spesso uno ama lo stato di schiavitù, perché ama la dipendenza, perché la dipendenza dà sicurezza, perché la libertà è anche una condizione di insicurezza, di incertezza, perché è più facile far scegliere che farsi portare nella libertà e poter scegliere. Ecco, allora questo è ciò che in questa domenica viene focalizzato. Il Signore Gesù non è ambiguo, viene e non possiamo farlo convivere con ciò che con Lui è totalmente incompatibile. Quindi, incontrare il Signore Gesù è arrivare a quello che è l'opera di Dio in noi. C'è una nuova generazione, c'è una nuova nascita, c'è una nuova dimensione. Noi sappiamo che ognuno di noi, per la potenza del Vangelo, è chiamato a essere liberato, redento, essere riscattato. Questo vuol dire rompere con ogni dipendenza. Ed ecco che all'inizio e alla fine di questo Vangelo compare l'immagine dei parenti di Gesù che si presentano perché vogliono rivendicare a sé Gesù. Ed è interessante che c'è anche la madre di Gesù, c'è Maria Santissima. Ed ecco che Gesù, che sta preso nelle cose luminose, dentro le cose che portano al cielo e non ritornano alla terra, vanno verso il Padre Celeste, non sono per sistemarsi qui, ma per andare al Regno dei Cieli, risponde con questa frase, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Questa che apparentemente sembra una parola dura contro la sua parentela, compresa sua madre, in realtà è una lode di sua madre. Ed in realtà ci dice, queste relazioni basate sul punto di partenza non valgono più, le relazioni valgono in funzione del piano di Dio. Chi sta nel piano di Dio entra in relazione con me, sarai mio cugino, sarai non so cosa, mio zio, quello che nel linguaggio ebraico era i fratelli, genericamente tutti i parenti, ma in realtà è la relazione in Dio, è la relazione redenta, quella priva di ambiguità, quella che è passata per l'azione dello Spirito Santo, quella che veramente è la nostra verità. E infatti Maria è, dicono i padri, ancora più madre di Cristo per la fede che non per la carne. Cioè lei è madre di Cristo nella carne perché lo è nella fede, perché prima dice di sia la parola e quindi è madre nella carne. E quindi la maternità di Maria, che in quel momento deve restare fuori perché la missione di Cristo non implica in quel momento lui stia a casa con i parenti, ma che stia a compiere la volontà di Dio per l'appunto, questa maternità che nega questo rapporto carnale sottolinea il rapporto spirituale. Maria è madre di Gesù per il piano di Dio, è lì che sono legati e non hanno bisogno di stare appiccicati. Sono legati dalla fede, sono legati dal piano di Dio. Quando io sto nel piano di Dio sono in comunione con tutti gli angeli, i santi, i profeti, tutte le persone che mi hanno voluto bene. Quando sto nella fede sto in comunione con i miei genitori che non ho più, sto in comunione con chi è lontano, con gli amici che non vedo da tanto tempo. quando io non sono nella fede, non sto in comunione nemmeno con chi mi sta appiccicato. Quando io sono in Dio, sto in relazione con tutto e con tutti. Quando non sono in Dio, quando sono nell'ambiguità dell'opera che confonde tutto, non riesco a fare un passo né interiore né esteriore verso qualcuno, non riesco ad amare veramente. Questa è la domenica per affermare la nostra chiamata a uscire da ogni dipendenza, da ogni ambiguità e entrare nella vita che Gesù Cristo ci ha portato per la sua potenza, per la sua grazia.